Grazie a tutti. Finchiamo già tanto a fine anno in salute. Inizio anno buono. Speriamo bene. Vi aspettate cose interessanti? Cose clamorose? Hai sentito questo processo in Calabria? Certo, perché non leggo i giornali. Ecco, ti faccio vedere una cosa carina. Ecco, vedi, fai lo scoop. I pizzini di Natale. I pizzini di Natale. No, sono i pizzini di Dell'Utri. Vedi? I auguri di Natale. I auguri di Natale. Ho mandato così. È un sistema, vedi, bello così. Mi dispiace, mi fa vedere anche un'altra cosa. Vuole vedere? Sì. Visibilmente dimagrito, il senatore Marcello Dell'Utri si presenta in aula alla ripresa, dopo la pausa natalizia, del processo che lo vede imputato dall'accusa di avere intessuto e mantenuto nel tempo rapporti con Cosa Nostra a scopo politico ed economico. Nessuna novità di rilievo prevista, anche se i difensori sapevano che il procuratore generale Nino Gatto, nei primi giorni dell'anno, aveva provveduto a depositare oltre 2000 pagine di interrogatori dibattimentali del pentito deceduto Antonio Scarano. Una grande quantità di materiale che la difesa ha detto di non avere potuto studiare a fondo. Gatto ha invece tranquillizzato gli avvocati San Marco e Mormino. A noi interessano delle parti ben specifiche, ha detto, assicurando che il deposito integrale è avvenuto per completezza. L'asso dalla manica lo tira fuori la difesa di Dell'Utri, una lettera recapitata allo studio legale dell'avvocato Alessandro San Marco, scritta da un presunto pentito della nuova Camorra organizzata, in cui questi afferma di essere in grado di dimostrare come Spatuzza sia un falso, una persona che vuole danneggiare una persona per bene, come il senatore Dell'Utri. La lettera porta la firma di un certo Antonio Cutolo, che a sostegno della sua tesi tirerebbe in ballo un altro presunto collaborante di Camorra, Luigi D'Andrizza. L'avvocato San Marco ha ritardato la decisione di depositare alla scorsa udienza lo scritto per consentire all'intero collegio difensivo una scelta condivisa. Così la richiesta di ascoltare i due personaggi detenuti nel carcere di Ivrea. Sono due pentiti di camorra importanti che dicono di avere le prove che Spatuzza mente. Questa è la loro asserzione. È chiaro che per me è molto interessante, anche se Spatuzza è già stato smettito. Secondo me non ci sarebbero bisogno di ulteriori prove. Però la difesa richiede che sia importante questa acquisizione e quindi abbiamo chiesto di sentire il Tribunale, anzi la Corte, deciderà. Mi sembra molto importante questo fatto perché i pentiti sono a Ivrea e quindi penso nello stesso luogo dove è detenuto o controllato, non so come si dica, lo Spatuzza, in cui evidentemente sono conviventi, sono stati conviventi, si conoscono bene. Secondo me è interessante comunque sentire. Vediamo. Però secondo l'accusa non fornirebbero elementi di spunto tali da consigliare credibile questo tipo di asserita? No, l'accusa non ha detto, né poteva dire questo perché che ne sa. L'accusa ha detto che vogliono arrivare al traguardo senza fare i chilometri necessari. L'accusa dice... No, 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 l'accusa non può dimostrare niente. L'accusa dice giustamente sentiamo prima che dicono e poi li mettiamo in faccia. Si opporre, si opporre a tutto. Non dire sentiamo che dicono. Ma no, 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 non è così. L'accusa dice, vediamo, l'accusa suggerisce alla difesa andateli a sentire. Se dicono cose interessanti li presentiamo al processo, altrimenti no. Questo non può dire diversamente. Che ne sa l'accusa di quello che questi signori vogliono dire. Non lo sa neanche la difesa, peraltro. Noi rileviamo che riceviamo questa informativa e contiamo di sentirli perché è interessante. Non vedo perché due pentiti di alto bordo, se si può dire, si devono esporre così gratuitamente. Gratuitamente no, Cutolo si deve nominare, ma non è quello evidentemente. Però dice in questa lettera il pentito Cutolo che è stato uno dei più importanti membri della camorra campana. Io poi non lo so, non mi intendo più di mafia. Ma dopo quasi due ore di Camera di Consiglio, la seconda sezione penale della Corte d'Appello, presieduta da Claudio dall'Acqua, ha respinto la richiesta a causa del contenuto dell'amissiva ritenuto troppo generico. Bocciate anche le richieste avanzate in precedenza dall'accusa. Non saranno ascoltati né il Vescovo dell'Aquila né i cappellani delle carceri del capologo abruzzese e di Ascoli Piceno, che avrebbero dovuto dimostrare l'attendibilità intrinseca di Gaspare Spatuzza. Disco rosso anche per l'escussione di Pietro Romeo e Giuseppe Ciaramitaro. Nei loro verbali, e scritto nei motivi del rifiuto dell'istanza, il nome del senatore Dell'Utri non è neppure menzionato. La decisione è il segnale che la Corte ha deciso di spingere verso una definizione in tempi brevi di questo giudizio d'appello. Verosimilmente per via di un quadro accusatorio corposo quanto quello di primo grado. La condanna a nove anni di reclusione per concorso esterno in associazione mafiosa a carico del fondatore di Forza Italia ed amico fraterno del premier Berlusconi, infatti, non è fondata né su racconti di Spatuzza né su quelli di Romeo e Ciaramitaro. Dal 15 gennaio, data della prossima audienza, sciolta ogni riserva sui verbali di Scalano, potrebbe riprendere la discussione finale, interrotta a novembre, con la richiesta di condanna della Procura Generale e le arringhe difensive.